Nel Trevigiano continuano a essere grandi lo sconcerto e il dolore per la morte delle cugine Jessica Fragasso, 20 anni, e Sara Rizzotto, 26, deciduti in un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, sull'autostrada 28, tra Villotta e Azzano Decimo, in direzione Conegliano. La Fiat Panda, su cui stavano viaggiando, assieme alle due bambine di Sara, rimaste ferite, la più piccola di pochi mesi, in modo particolarmente grave, è stata coinvolta in un tamponamento causato da un altro mezzo, un fuoristrada, poi capottatosi. Nell'incidente è rimasto coinvolta anche l'auto su cui stavano viaggiando i genitori di una delle due vittime. Il presunto responsabile del sinistro risulta un 61enne residente nel Pordenonese, di origini bulgare. Rimasto ferito in modo lieve, l'uomo era uscito autonomamente dal fuoristrada ribaltato e si era allontanato dall'aria. Individuato alcune ore dopo dalla polizia, è stato fermato per omicidio stradale colposo plurimo aggravato e per omissione di soccorso e fuga. Stando a quanto appreso dall'Ansa, è risultato fortemente positivo all'alcol test effettuato al momento dell'arresto. Le due cugine stavano rincasando dopo aver trascorso insieme la giornata a Caorle. Jessica Fragasso era di Mareno di Piave, mentre Sara Rizzotto abitava a Conegliano. Quest'ultima, di professione assistente sanitaria, era la mamma delle due bambine rimaste ferite. Una bimba di pochi mesi, la più grave, e la sorellina di circa due anni e mezzo, entrambe ricoverate all'ospedale di Udine. La più piccola, in forma a lanza, è in prognosi riservata.